Lo stagio in Solferino Editori inizierà a breve, infatti sono molto contenta di questa opportunità. Questa opportunità è nata in aula, sia da una mia passione pregressa per il mondo della letteratura e dell'editoria, ma anche grazie ad un project work che abbiamo realizzato proprio in collaborazione con la casa editrice per il lancio di un nuovo romanzo per ragazzi. Grazie